Tanto diciamo che mi piace il percorso che abbiamo fatto per questa riforma. In un paese dove va di modo ormai troppo decidere e dire se no non si riesce a cambiare nulla, dobbiamo fare come ci pare, chiudersi in una stanza, l'assessore viare ha fatto un lungo cammino di ascolto e oggi arriviamo qua, che non è la fine di un percorso, è il campo base di un percorso. E' l'inizio del vero percorso dove arriviamo con una consapevolezza e un bagaglio costruito in questi mesi di quello che serve alla sanità Ligure e di cosa possiamo fare per cambiarla davvero. Quindi da oggi partono davvero i lavori per la riforma che verrà fatta e verrà fatta nei tempi che abbiamo promesso. So per certo cosa voglio da questa riforma. So che voglio una sanità che non debba rinunciare ai propri servizi ai cittadini per i tagli dei budget che si fanno necessariamente, una sanità dove il privato aiuta il pubblico a fare efficienza, una sanità dove la qualità dell'assistenza al paziente sia quella che conta e ci aiuti anche a far risparmiare. Come è noto una buona assistenza domiciliare costa 3-4, addirittura 5 volte meno di un ricovero. Questa è la sanità che vogliamo costruire. Chi oggi ci critica per il metodo troppo spesso ha deciso solo, chiuso in una stanza e ha pure reso una scelta sbagliata. Chi ci critica per la nostra apertura ai privati che possono aiutare il pubblico è quello stesso che ha costruito una sanità fatta in modo tale per cui il cittadino spesso si rivolge al privato e in modo privato, cioè pagando di tasca propria perché non ha i servizi dal pubblico. Questo è quello che vorrei dalla giornata di oggi partire per l'ultimo tratto del cammino con tutta la capacità e tutta la volontà e tutta la consapevolezza accumulate in questo percorso.